Desidero ovviamente ringraziare il Centro Studi Vitroviani che mi ha dato l'onore di essere qui con tutti voi. Voglio ringraziare per la sua bellissima presentazione il professor Domenico Losurdo che da filosofo ha intuito subito qual era l'aspetto universalistico del mio scritto e qual era anche l'aspetto più propriamente umano dell'autore il che mi ha fatto molto piacere perché mi dà l'opportunità di comunicare immediatamente con voi dicendovi che io in questo momento ho bisogno di voi. Io credevo dopo aver terminato il mio lavoro superando i 75 anni perché alla Corte Costituzionale si va oltre finché non termina il mandato di nove anni. Io pensavo che avrei continuato a studiare quello che più mi piaceva cioè dire la ricerca romanistica. È stato già detto che i miei studi risalgono al diritto romano. Questa è l'occasione per dire che studiare il diritto romano per un giurista è molto importante, non ci si pensa molto ma io credo che come un matematico non può ignorare Pitagora o Euclide così un giurista non può ignorare il diritto romano perché la sapienza giuridica nell'esperienza di 13 secoli di storia giuridica romana, del pensiero giuridico romano ha dato dei frutti ai quali ancora oggi attingiamo. E solo per dire discorcio guardate che il diritto romano è stato applicato in Germania la Germania che tanto si sente diversa da noi, fino al 1900 essendo stata la Germania l'ultimo paese che ha adottato un codice civile fino al 1900 i tedeschi studiavano diritto romano per cui il nostro sistema giuridico si chiama sistema giuridico romano germanico germanico perché i tedeschi avendo come diritto il corpus iuris applicavano il diritto romano e quindi lo studiavano ci sono stati dei grandi studiosi, Savigny, Windscheid, è inutile enumerarveli, che hanno studiato. Però questo è importante perché mi dà l'occasione di dire che il giurista si muove nell'ambito di un sistema cioè a dire la scienza giuridica intanto è scienza in quanto è sistema se non c'è un sistema non esiste l'apparato scientifico di una certa materia quindi lo studio del diritto romano per me è stato essenziale proprio perché mi ha dato la possibilità di inserirmi bene nel sistema giuridico nel guardare bene a fondo nel sistema giuridico vigente che è quello italiano che purtroppo è stato letteralmente stravolto. Ecco, il mio punto di partenza è proprio questo che ha sottolineato molto bene lo surdo io vedo una grande catastrofe ambientale che si abbatte su di noi ma guardate che quello che sta succedendo ieri a Roma faceva caldo, stavo in maniche di camicie sono uscito oggi dall'albergo, faceva freddo e meno male che mia moglie che mi tratta come un bambino da quando sono diventato vecchio perché le moglie sono paritetiche fino a una certa età poi diventano mamme alla fine, insomma, non sono più compagni, sono mamme e per fortuna mi sono portato un trench sono arrivato, sono arrivato, mi sono un po' difeso per questa cosa ma la catastrofe mondiale, globale è imminente è in parte già realizzata io sono convinto che purtroppo il cambiamento del clima è un fatto forse, voglio metterci ottimisticamente un forse forse irreversibile siamo arrivati a momenti difficili però io ho pensato anche che bisogna darsi quando si ragiona e quando si studia bisogna darsi dei confini la parola del confine è una parola importante da tenere sempre presente perché se noi non poniamo dei confini al nostro ragionare, al nostro riflettere finiamo per sperderci nell'infinito e allora bisogna porre dei limiti e io mi sono posto il limite di passare da quella che giustamente ha definito lo surdo la comunità biotica cioè dire questo insieme, questa bella ad erbe, famiglie ed animali direbbe Foscolo questo insieme di esseri animati che tutti insieme con interscambi incredibili e ciascuno conservando la propria individualità rendono possibile un'immensa vita la vita della terra dove tutti noi partecipiamo della stessa vita delle stesse cose e purtroppo noi uomini che siamo, a differenza degli animali dotati di libero arbitrio non sempre leggiamo per il bene spesso leggiamo per il male di cui la necessità di ripensare di riflettere un poco su se stessi e vedere quali sono le azioni che bisogna compiere io partendo dalla comunità biotica sono andato a ritrovare quello spicchio di comunità biotica che è sotto l'impero da giurista che è sotto l'impero di un ordinamento giuridico allora ho voluto parlare di territorio perché il territorio è quella parte della biosfera dell'ambiente non sempre si capisce il parallelismo tra queste due parole ambiente e biosfera sono la stessa cosa è scritto anche in tre sentenze della Corte Costituzionale stranamente sono firmate da me ma questo non conta insomma ambiente e biosfera sono la stessa cosa comunque noi viviamo siamo parte della biosfera altro concetto che da filosofo ha molto bene sottolineato lo surdo noi siamo parte della biosfera è parte della biosfera anche la formica guardate ognuno di noi ha una funzione in quest'ordine cosmico che è il cosmos che è ordine non è caos certo non è perfetto perché c'è il bene c'è il male c'è la lotta per la vita c'è il debole che soccomba il forte che vince è molto dura anche la legge naturale però c'è un ordine c'è un ordine ed è un ordine sul quale deve un po' conformarsi l'ordine giuridico cioè quello che creiamo noi e quindi dal cosmos dall'ordine dalla comunità biotica dalla biosfera nel suo insieme io sono passato a quello spicchio di biosfera che cade sotto il dominio di un ordinamento giuridico e che è il territorio e allora parlando di territorio io ho voluto tenere presente tutti gli aspetti del territorio e qui mi potete dire cosa intendi per territorio penso che sia mio dovere dirvi subito io per territorio intendo innanzitutto questa parte della biosfera che è sotto un ordinamento giuridico e che quindi può essere regolamentata giuridicamente dalla volontà umana attraverso la legge e soprattutto attraverso la costituzione ecco il territorio poi è uno spazio è uno spazio di libertà è uno spazio in cui si svolge la vita non solo degli animali di tutti gli esseri animati degli esseri inanimati ma si svolge la vita di ogni uomo e in questo in questo territorio ci sono beni di tutti i tipi beni materiali e beni immateriali sono beni immateriali ad esempio le poesie ad esempio la bellezza ad esempio internet tutto fa parte del territorio e allora difendere il territorio a mio avviso diventa un fattore importante penso vi sia chiaro il concetto di territorio è tutto e questo mi porta a precisare anche un piccolo dissenso mio nei confronti del concetto di bene comune io ho scritto nel titolo il territorio bene comune degli italiani il territorio è il principale bene comune bene comune è una dizione che per il giurista deve essere una definizione giuridica cioè bene giuridicamente comune di tutti collettivo si potrebbe anche dire con un termine più specifico dal punto di vista giuridico il territorio bene comune vi risolve un problema gravissimo in cui si dibattono i miei colleghi che come me e forse anche meglio di me per carità hanno studiato la teoria dei beni comuni loro non escono da un impasse terribile che è quella che dipende dalla domanda ma quali sono i beni comuni nel mio libro la risposta è unica è il territorio è tutto un bene comune e i beni che non sono comuni che sono dei singoli sono parte del territorio che sono state date a singoli quindi ho rovesciato questo è piaciuto molto a Floris d'Arcais questo mio rovesciamento quando gli mandai un articolo per la sua rivista Micromega che è una di quelle riviste che vale la pena di leggere effettivamente in sostanza quando noi parliamo di di beni comuni entriamo dal punto di vista giuridico di fronte a un dilemma cosa è bene comune cosa non è bene comune e soprattutto secondo elemento da tenere presente così prendete atto della mia posizione nell'ambito di questo tema io ho letto in una raccolta di Maria Rosaria Amarella oltre il pubblico e il privato i beni comuni io ho detto dove oltre il pubblico e il privato che c'è avevo scritto nel 1990 un libro dedicato al risarcimento del danno ambientale prima scusate la mia immodestia nel dire queste cose insomma mi ero inventato il risarcimento del danno ambientale come danno alla collettività come danno a tutti perché fino allora si era detto che il risarcimento del danno riguardava la lesione di un diritto soggettivo quindi un bene appartenente ad un soggetto quindi risarcibile era o un bene di proprietà un oggetto poi si è fatto un passo avanti con la Cassazione si è detto ma anche la persona quindi anche il danno biologico e io ho detto no ma dobbiamo risarcire anche il bene collettivo anche cioè i beni comuni questo libro lo tendi lo scrissi nell'88 lo tendi nel cassetto per due anni perché mi sembrava troppo avanzato di vedute troppo poi lo feci leggere Massimo Severo Giannini che è stato un grande amministrativista con il quale avevo un buon rapporto lui mi disse e mi scrissi una lettera caro Maddaleno ha finito in questo momento di leggere il suo scritto mi complimento scusate mi pare che io faccio l'elogio di me stesso va beh gli era piaciuto non voglio ripetere le parole eloggetive vi dico invece quelle negative naturalmente non sono d'accordo su tutto ma ma un lavoro così andava fatto e lei lo ha fatto in modo eccellente pubblichi subito questo libro così lo pubblicai se non che questo libro non è stato capito perché questo libro diceva che l'ambiente è proprietà collettiva è una proprietà di tutti e questa idea della proprietà collettiva non sfondava con i beni comuni ho pensato che finalmente si poteva cominciare a parlare di proprietà collettiva che è un elemento importante la proprietà e il fatto dell'appartenenza di un oggetto al soggetto è un fatto di rimente di tante questioni giuridiche e il diritto romano lo mette molto bene in evidenza il dominium ex iur equirizium pensate agli stessi attributi di giove e optimus maximus quindi nell'ordinamento giuridico l'appartenenza esplica una funzione molto importante e il mio cuore si è allargato quando ho cominciato a sentir parlare di beni comuni ma cosa leggo nel libro di Marella e anche specialmente in un articolo di Giuseppe Guarino la ministra di vista a noi non interessa se il bene pubblico o privato a noi interessa la destinazione del bene che sia destinato all'uso pubblico scusatemi ma se un bene è privato è destinato all'uso del privato c'è poco da fare il privato ha sul bene un potere pieno ed esclusivo in ordine al godimento e all'alienazione del bene e qui è venuta fuori di nuovo questa questa è un nuovo mio agire ecco vi sto spiegando le ragioni ultime del mio ragionare del mio pensare di far valere il tema grosso della proprietà collettiva cioè dire secondo me un bene è comune quando appartiene a tutti e tutti ne possono godere in modo uguale paritetico per tutti da che cosa lo derivo? dal diritto romano molto semplicemente non mi sono inventato nulla ho solo studiato la Roma arcaica e il diritto nella sua evoluzione di 13 secoli il diritto romano e allora esce fuori questo testo nel quale io ritengo che sia molto importante stabilire che cos'è il territorio spero di averlo spiegato a chi appartiene il territorio appartiene a tutti chi ne può usare del territorio chi può modificare il territorio e questa è già materia abbondante per scriverci sopra un libro però mi sono accorto anche di un altro fatto mi sono accorto che non mi bastava non mi bastava non mi era sufficiente soffermarmi sugli strumenti per evitare la devastazione del territorio l'edificazione legittima e illegittima a me mi pare che fa più danno quella legittima che quella illegittima poi tutto sommato l'impermializzazione con le autostrade tutto quello la cementificazione del territorio noi siamo arrivati a situazioni aberranti e l'aberrazione continua guardate che lo sblocca Italia di Renzi destina questi sono per Renzi questi applausi per la citazione dunque nello sblocca Italia sono destinati 110 milioni per necessità ambientali e dicono che saranno molto di più mi hanno detto ma comunque formalmente 4 miliardi vedete la proporzione da quel poco che si riesce a leggere perché questo questo decreto non si capisce bene dove sta se c'è il timbro della ragioneria se il presidente della Repubblica l'ha visto non si capisce bene eccetera sembra un po' un gioco delle tre carte però perché da un certo punto comincia 11 miliardi in deficit poi 18 miliardi di tasse in meno ma 11 miliardi in deficit significa ricorso al debito ricorso al debito implica 300 milioni di interessi e quindi sono 11 sono 14 poi 14 miliardi altri 4 miliardi devono pagarle le regioni siamo ai 18 quindi lo sgravio lo sgravio di 18 miliardi delle tasse mi pare che sia poi nettamente compensato dall'aggravio del debito che si va a incorrere di quello che si chiede poi vabbè comunque non è questo il tema di questa sera voglio dire solo questo che in realtà la politica come l'immaginario collettivo sono dominati da un'idea sbagliata assolutamente sbagliata cioè che l'unica forma di proprietà è la proprietà privata questo è il grave errore sul quale io chiedo veramente il vostro aiuto l'aiuto di tutti giustamente diceva Domenico Maddalena come Settis come Montanari sono persone tranquille hanno fatto i loro studi quello ha fatto il giudice e poi il giudice e poi di nuovo lo studioso quello ha fatto lo studioso come mai queste persone a un certo punto escono fuori io sono stato sempre alieno dal avere contatti con la stampa anche quando ho rivestito delle cariche pubbliche importanti le ho sempre mandati via tutti però adesso io sento dentro di me un'esigenza etica importante insopprimibile io non posso andare via da questo mondo che vedo purtroppo un miliardo di volte peggiore di quello che ho conosciuto quando sono nato e allora ho il dovere se nella mia vita ho appreso qualcosa anche attraverso l'attività che ho svolto attraverso gli studi di comunicarlo ecco e allora scusatemi ma io vi devo parlare ho detto all'inizio io ho bisogno ho bisogno di voi vi devo dire e vi dico subito grazie vi dico vi dico subito che non è che io sto qui a fare una denuncia io sto qui soprattutto a indicare una via di risoluzione del problema sto andando per gradi come vi siete accorti adesso c'è un altro un altro scalino da fare e per completare il quadro di fondo la scena di fondo su cui operare e l'altro gradino l'ha indicato molto bene sin dall'inizio Domenico man mano che passa il tempo è più quello surdo lo chiamo Domenico si vede che mi sente sempre più amico il fatto che l'ambiente è strettamente collegato all'aspetto finanziario e allora io vi dico che uscendo dalla Corte Costituzionale il 30 luglio 2011 io pensavo di tornare ai miei studi romanistici e poiché mi ero occupato di beni comuni di proprietà comune avevo cominciato a scrivere e poi ho scritto un interessante articolo di diritto romano puro con le fonti i beni comuni in diritto romano che mi sembra molto importante perché noi quando parliamo di proprietà collettiva parliamo di proprietà collettiva riferendoci alle proprietà collettive medievali quelle che ancora oggi hanno uno strascico diciamo così le magnifico regole di Cortina d'Ampezzo le magnifico regole della Val di Fiemma che poi è diventata un'azienda una cosa terribile insomma gli usi civici del meridione le comunanze emiliane le università agrarie viterbesi tutte cose che sono servite in gran parte tranne gli usi civici veramente che quelli sono stati devastati ugualmente a salvare le terre dalla devastazione cioè il fatto che da l'uniterra appartenessero ai residenti ha fatto in modo che quei terreni non fossero edificati quindi hanno svolto ma lo studioso di diritto romano sa bene che e lo disse ed è stato detto dal Nibur un illustre studioso tedesco nel 1804 quindi pensate non è affatto vero che i romani abbiano pensato alla proprietà privata i romani hanno innanzitutto pensato alla proprietà collettiva e le proprietà collettive medievali di cui abbiamo qualche strascio in tutto il mondo poi c'è il Mir russo c'è la proprietà collettiva scoto britannica e non è che vi dico in tutto il mondo ci sono appendici di queste come dice Cattaneo insomma sono un altro modo di possedere che da tempi remoti è sceso quasi inosservato fino a noi ne ha parlato molto bene con Paolo Grossi mio collega anche alla Corte Costituzionale uomo dotato di grande senso critico un critico storico nel suo libro proprio intitolato un altro modo di provvedere comunque la proprietà collettiva la proprietà collettiva nasce a Roma e tutto questo che sto per dirvi adesso vi fa vedere che il discorso che faremo tra poco non la prenderò tanto tanto alla larga perché bisogna avere rispetto anche di chi ascolta ma intanto dopo aver detto diciamo così le premesse universalistiche e filosofiche del discorso dopo aver detto la necessità di la situazione descritto più o meno in quale situazione ambientale e sociale noi ci troviamo adesso io vi devo dire che a questo punto dobbiamo tenere presente un fattore importantissimo il benessere di un popolo dipende da due fattori dal lavoro dell'uomo e dalle risorse della terra ora la situazione tragica italiana è che sono state distrutte le risorse della terra ed è stato distrutto il lavoro allora l'obiettivo è quello di riconquistare il lavoro e le risorse della terra di dire basta alle privatizzazioni le privatizzazioni sono state una sciagura incredibile sostenuta anche da illustri giuristi che io ben conosco ma di cui non faccio il nome perché posso fare il nome sono delle persone di cui dico bene non di quelle di cui dico male comunque giuristi che sono andati anche per la maggiore hanno sostenuto come bene la privatizzazione non so se vi ricordate quante volte il cavaliere l'ex cavaliere però ancora ex cavaliere poi diventerà cavaliere non vi preoccupate insomma l'ex cavaliere cosa diceva meno stato meno stato e più mercato e qui e qui la deviazione veramente mentale è una deviazione culturale della mente della cultura mentale proprio dell'uomo dell'antropologia umana perché dire più mercato e meno stato significa dire più irrazionali più individualismo più scelta particolare di singoli di lobby e meno razionalità perché il mercato lo stato ha come obiettivo fondamentale la tutela dell'interesse generale cioè dell'interesse di tutti allora dicendo questo si dice non mi interessa l'interesse generale mi interessa l'interesse dei singoli delle lobby e ha mantenuto fede il cavaliere a questa sua cosa tant'è vero che tutti i vent'anni di governo ha fatto altro che togliere a tutti e dare a pochi ecco la grave la grave il grave strumento della privatizzazione insomma la privatizzazione la cosa più grave è la privatizzazione dei demani col decreto legislativo numero 85 del 2010 e lì fu che io ebbi per la prima volta il campanellino che suonò nel mio cervello sono diventano vendibili dopo essere state trasferite alle regioni il demanio idrico statale idrico marittimo minerario e culturale tutto questo è passato già alle regioni e le regioni possono venderli a privati si salta il demanio il demanio è quell'insieme di beni che viene destinato per natura e per funzione all'uso diretto della popolazione farsi il bagno bere l'acqua invece adesso tutto viene dato a privati e non si tiene conto che dando a privati si fa un doppio danno alla generalità dei cittadini perché da un lato gli si toglie la proprietà diretta del bene dall'altro gli si dice tu poi per avere quel bene devi pagare il profitto di che proprietario e quindi se io adesso posso bere un bicchiere d'acqua perché sgorga dalla sorgente se la sorgente appartiene a un privato quello ti dice no ogni bicchiere vale paghi due euro un euro e sono buono a dire un euro e ma io ho sede non ho un euro e me mori di sede insomma rendetevi conto che ci sono beni che non possono essere privatizzati come ci sono beni che non possono entrare in commercio il diritto romano è importante anche per questo Gaio ha precisato che le cose si dividono in cose in commercio res in commercio e res extra commercium le res extra commercium sono le res comune somnium quelle che Modestino poi nel terzo secolo chiama le cose comune di tutti quindi beni comuni sono beni fuori commercio perché appartengono a tutti come fai a commerciare un bene che è di tutti beh invece noi abbiamo avuto che il decreto legislativo del 2010 ha reso commerciabili vendibili i beni di tutti e questo è gravissimo poi c'è la privatizzazione dei territori interi territori sono stati venduti ai cinesi alla mafia russa agli inglesi Blair gli è piaciuto molto la Toscana quegli altri non so l'Umbria e via dicendo poi c'è la svendita delle imprese delle imprese strategiche soprattutto la privatizzazione vietata dalla Costituzione delle fonti di energia le fonti di energia sono quei beni che la terra mette a disposizione di tutti gli uomini e Sant'Ambrogio come è scritto nella Populorum progressio di Paolo VI dice guardate che quando tu dai al povero qualcosa non è che dai qualcosa di tuo restituisci a lui quello che era suo perché gliel'avevi tolto prima perché ognuno di noi nascendo ha diritto ad avere quello che serve a soddisfare le strette necessità personali e familiari e questo è un diritto inviolabile che tutti quanti abbiamo e che la Costituzione ci riconosce quindi noi abbiamo bisogno delle cose e la proprietà privata che toglie questi beni e li dà qualcuno singolo e commette un errore l'energia le fonti di energia siccome servono a tutte le imprese non c'è un'impresa che non ha bisogno di luce elettrica o di gas come fai tu a darla a privata alla libera concorrenza a fare in modo che magari ci sia un duopolio un monopolio sulle fonti di energia no questo come dice l'articolo 43 della Costituzione deve essere dato alla mano pubblica o a comunità di lavoratori e di utenti così da dire dei servizi pubblici essenziali tra in Italia come si chiama quell'altro non so Italo Italo ma che significa che c'entra la concorrenza con le vie di comunicazioni ferrate di binari più di due non ce ne possono stare tu puoi fare la concorrenza per i telefonini ma non puoi fare la concorrenza per i trasporti e non puoi fare la concorrenza per la telefonia tu il telefono è uno strumento importante dove ci sono anche notizie riservate ci sono cose che non possono essere alla portata dei singoli come fai tu a privatizzare servizi pubblici essenziali di questo tipo e non è finita abbiamo privatizzato le banche la privatizzazione delle banche tutte le banche sapete c'erano le banche di interesse pubblico e le banche pubbliche sono state date a privati e la banca d'italia è privatizzata è la banca d'italia sapete è l'istituto che deve proteggere la valuta italiana ma come può una banca privata proteggere la nostra valuta se fa gli interessi della banca stessa o tutt'al più degli azionisti della banca la banca la banca d'italia è formata da 50 banche private alla testa di queste banche c'è l'unicredit e banca intesa è la nostra valuta è difesa da queste due banche che devono rispondere innanzitutto agli azionisti ma guardate che qui nel cervello umano è successo qualcosa che sa dell'irreparabile e poi ci sta ancora un altro fattore noi parliamo anche della BCE la BCE è formata da 15 banche tutte private la banca europea e in campo mondiale il fondo monetario internazionale è formata da 12 banche private quindi noi siamo sovrastati da interessi privati lo sta meno stato e più mercato bravo signor cavaliere miei complimenti hai fatto proprio bene ci hai tolto qualsiasi difesa e l'hai data ai tuoi singoli portatori di borsa o che so io o altro insomma la situazione è diventata veramente tragica in questa situazione in cui ci troviamo quindi io credo che a questo punto bisogna vedere bene entro nel vivo del discorso che cos'è questo sistema economico finanziario che esiste e che noi dobbiamo osservare e che ha invaso la sovranità degli stati adesso si parla di un trattato Europa se sapete TTPIT un trattato in cui un accordo tra Europa e Stati Uniti in cui le varie le controversie non vengono più risolte dai tribunali tradizionali statali ma da alcune commissioni arbitrali nominati con l'ex mercatoria cioè dagli stessi mercanti insomma questa è una cosa incredibile non lo so se si attraverrà questo comunque il fenomeno è questo che è entrato nell'immaginario collettivo l'idea che esiste solo la proprietà privata ed è entrata nell'immaginario collettivo che è bene che è bello privatizzare e noi abbiamo perso tutto noi siamo poveri il territorio italiano adesso non c'è più un'industria sono state date via le industrie sono state vendute le isole della Laguna Veneto ne era rimasta una non sono riuscita a trattenerla è in vendita il Monte Cristallo pare che non sia ancora venduto se a qualcuno interessa c'è da comprarsi il Monte Cristallo si vendono i laghi alpini c'è un laghetto alpino che è in vendita si vendono le coste moltissime sono state vendute naturalmente quelle più belle rischiamo tra poco che andiamo a Ostia o a Fregene noi di Roma voi non so qui ce n'avete tanto di mare eccetera trovate no qui non potete entrare perché perché c'è un privato che si è comprato la spiaggia ha costruito la villa non intende far passare nessuno sono cose veramente assurde di un'assurdità incredibile io devo soltanto precisarvi questo che secondo me di fronte a questo spettacolo tragico che ho cercato di descrivervi sia sul piano ambientale che sul piano finanziario la soluzione noi ce l'abbiamo ed ecco perché ho detto ho bisogno di voi ho bisogno che molti che molti si rendano conto innanzitutto che non esiste solo la proprietà privata ma che esiste anche la proprietà collettiva adesso lo dimostreremo in secondo luogo che questo sistema finanziario che è sempre inattaccabile è attaccabilissimo è un gigante dei piedi di argilla lo possiamo buttare giù in qualsiasi momento basta che lo vogliamo perché questi ci ingannano ci hanno soltanto ingannato e non hanno niente hanno dei bip sul computer allora passiamo su questo punto la debolezza del sistema finanziario attuale una volta c'era il mercato quello che mi si raccontava quando ero bambino nelle fiabe nel mercato si vendono dei beni e si hanno in cambio ai miei tempi nelle favole altri beni un litro di latte prendi la ricotta eccetera poi cade il latte via dicendo mi ricordo una favola che mi raccontava mia nonna su questo punto poi abbiamo detto no mettiamo la moneta e allora c'è stato il passaggio dalla moneta che era mezzo di scambio quindi si dava una merce per una moneta moneta d'oro poi ci fu il più furbo che disse no ma io invece d'oro le faccio d'argento le monete un'altra ancora più furbo le faccio di bronzo un'altra ancora più furbo le faccio di carta in sostanza poiché per la legge di Gresham la moneta cattiva caccia la buona siamo arrivati ai pezzi di carta a piccole cose di metallo per le monete spicciole in un tempo quando ero bambino erano convertibili in denaro erano convertibili in oro c'era la convertibilità poi è cessata la convertibilità e con gli accordi di Bretton Wood nel 1944 ratificati in Italia dal 1947 abbiamo detto che la lira italiana non era convertibile in oro ma era convertibile in dollaro e i dollari erano convertibili nell'oro di Forte e Knox quindi c'era ancora una convertibilità ma Nixon quando si è accorto quando si è accorto che l'oro di Forte e Knox avrebbe sarebbe servito sia no a pagare un milionesimo dei vari dollari in circolazione per il mondo disse no anche la moneta anche il dollaro non è convertibile scusatemi ma allora sto pezzo di carta che teniamo in tasca che cos'è? la moneta ha cambiato funzione non è più un elemento di scambio un mezzo di scambio ma rappresenta un come dire la promessa di un bene dal punto di vista economico così dice Gallino la promessa di un bene da un punto di vista giuridico diciamo così è un diritto di prelievo di una certa quantità di beni che appartengono a tutti della ricchezza nazionale ed è quello indicato sul 10 euro io posso prelevare dal mercato non so quanti chili di mele tre chili di mele non lo so eccetera insomma mi dà un diritto di prelievo praticamente e qui vediamo come pian piano l'economia si finanziarizza perché anziché parlare di scambio di beni reali noi cominciamo a parlare di titoli di credito allora per l'avaro arpagone arpagone non accumula più il denaro sotto il mattone va alla ricerca dei diritti di credito allora ecco il colpo di genio grandioso che hanno i finanzieri quelli della finanza perché se non si confondono con quelli che vanno a fare le verifiche i finanziari allora un bel colpo di genio che in Italia viene recepito legge numero 130 del 1999 cosa dice questa dice che i diritti di credito sono cartolarizzati e valgono come titoli commerciabili ma che sono questi diritti di credito è un altro modo per dire debito cioè dire chi compra i debiti quei debiti per fictio iuris diventano debiti come se fossero garantiti ma non sono garantiti e lei gioca in borsa e in borsa quei debiti che sono un valore negativo diventano un valore positivo ecco la grande furbizza da grandi scienziati di questi signori la cosa grave è che tutti ci credono la cosa grave è che nessuno sa bene queste cose per cui bisogna saperle bisogna bisogna rendersi conto costoro sono dei poveracci e dei miserevoli sono addirittura dei miserabili proprio miserabili anche dal punto di vista proprio della valutazione delle persone insomma che fanno queste cose e noi abbiamo fatto una legge apposta abbiamo favorito è l'ultimo decreto legge lo sblocca Italia favorisce ancora perché cosa si inventa l'ultimo si inventa il project bond che cos'è il project bond se io sono concessionario di un'opera pubblica io vendo obbligazioni su quell'opera pubblica ma l'opera pubblica non c'è e non l'è fatta io vendo obbligazioni come se fossero obbligazioni reali garantite poi alla fine chi paga pantalone perché quello crolla la strada non si fa i soldi non ci sono e così anche i project bond entrano come diritti di credito garantiti e poi ci pensa anche Lupi perché Lupi parla dei diritti edificatori si inventa gli diritti edificatori quindi addirittura l'amministratore dei beni che dovrebbe rispettare il bene di tutti che fa crea dei diritti edificatori valutabili come titoli di borsa in borsa andate a vedere in borsa non c'è niente ci sono delle improvvisamente questi signori che fanno decidono di aumentare o di diminuire i tassi di interesse sul debito pubblico ma il debito pubblico finché siamo state delle persone normali era un debito sovrano inattaccabile tutelato da trattati internazionali come quello di Bretton Wood e i trattati successivi questi signori hanno cominciato ad attaccare il debito pubblico italiano nel novembre del 2011 nessuno ha detto niente Tremonti non ha detto niente Berlusconi non ha detto niente e ci hanno innalzato i titoli il tasso da pagare sul debito pubblico e giorni fa l'hanno di nuovo riaumentato poi l'hanno fatto riscendere secondo il loro piacimento scusatemi ma a questo punto il discorso emerge nella sua chiarezza totale chi comanda chi ha la sovranità questi sfaccendati che non fanno niente e lavorano e campano sulle spalle degli altri e fanno con detrati di penne spostano miliardi fittizi trilioni e trilioni di dollari e di euro fittizi di titoli di credito commerciabili derivati derivati dal credito i prodotti finanziari i fondi assicurativi e via dicendo e noi il popolo carneficina e noi e noi dobbiamo soffrire allora esce fuori il giurista guardate che a questo punto l'unica risorsa è far valere contro la barbarie della finanza la forza del diritto sia ben chiaro due punti devono essere ben chiari innanzitutto il territorio appartiene a tutto il popolo italiano a titolo di sovranità e adesso ve lo dirò in poche parole secondo punto per quanto riguarda l'aspetto finanziario noi siamo tenuti a seguire i vincoli europei ed internazionali perché questi vincoli europei e internazionali ci sono imposti dalle banche non è che ci sono imposte dalle istituzioni ci sono imposte dalle banche della BCE 15 banche o dalle banche del Fondo Monetario Internazionale 12 banche quindi noi siamo costretti alla fame per opera di questi signori che si assumono una sovranità che loro non spetta su questo secondo punto c'è un altro rimedio il rimedio cosiddetto dei controlimiti cioè dire la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha precisato che quando si tratta di questioni che riguardano diritti umani e sono diritti umani quelli a non essere licenziati a non morire di fame a non morire di miseria in questo caso il vincolo non conta quindi si agisce indipendentemente dal vincolo questi sono i due rimedi allora cerco di esprimere di riassumere e valutare l'aspetto che secondo me è il nucleo centrale della mia ricerca ma sicuro sono stati tre anni di studio di studio continuo e poi cinque mesi di scrittura mattina e sera mattina e sera e poi vi dico tra parentesi il primo marzo io il mio libro usciva in libreria e io purtroppo ho entrato in ospedale con un'embolia polmonare a cavaliero una cosa tragica non lo so grazie a Dio però si è guarito perfettamente e ho ancora la forza di parlare con voi e si vede che io dovevo scrivere queste cose a questo punto tenete presente una cosa è fondamentale dimostrare che la proprietà privata non è originaria ma deriva dalla proprietà collettiva del territorio cercherò di essere breve fondazione di Roma fondazione di Roma esiste solo proprietà del popolo proprietà del popolo quando Numa Vompilio ritiene opportuno dividere un po' di territorio comune tra i singoli patres familiarum dette a ciascuno due iugeri a testa mezzo ettaro pochissimo quanto basta per soddisfare gli stretti bisogni familiari di una famiglia e non era proprietà privata si chiamava mancipium non ha niente a che vedere con la proprietà privata quando nel V secolo si fecero le prime conquiste e fu necessario distribuire i terreni ai veterani si fece anche in questo caso la divisio et disignazia agrorum la divisione assegnazione per sorte e per sorteggio dei vari lotti di terra che si facevano i vari lotti da cui il gioco all'otto si estraevano poi le varie sorte se le chiamavano i romani e si davano ai veterani ma tutto questo era necessariamente preceduto da una legge i romani davano non ancora la proprietà nel V secolo c'è la possessio possessio fact potissedio secolo da signore si dava la possesso dei beni quindi non la proprietà privata sia ben chiaro ai veterani dopo che l'aveva stabilito il popolo o con una lex centuriata cioè una legge diremmo secondo le procedure normale di legge con doppia lettura non so una cosa così importante dove tutte le centurie andavano al circo massimo a votare i capi centurioni dicevano come votavano quindi una lex centuriata oppure con un plebiscitum che era una forma di legificazione semplificata nel senso che il magistrato che faceva parte dell'aristocrazia portava la plebs il provvedimento da adottare e se la plebe assentiva allora si aveva il plebiscitum plebiscitum hanno conosciuto la plebe e valeva come legge quindi la proprietà privata ancora non se ne parla nel quinto secolo se ne parla di forme di parvenze piccole di proprietà di uso direi meglio da parte dei singoli ma sempre precedute da una legge perché era territorio del populus e il populus si esprimeva con la lex e con la legge e con la legge dava a singoli quello che era di tutto il popolo questo si mantiene nel medioevo quando la sovranità dal popolo passa al sovrano il sovrano pure da graziosamente il dominium utile al coltivatore diretto ma mantiene il dominium eminence nel senso che in ogni momento se lo può riprendere una super proprietà dice carl smith resta perché alla sovranità c'è uno stretto collegamento tra territorio e sovranità il territorio è uno dei contenuti dei poteri sovrani del popolo del sovrano insomma l'appartenenza del territorio fa parte dei poteri sovrani quindi nel medioevo resta la cesura sia con la borghesia l'ha citato Domenico quando Tomalis che dirigeva i lavori del codice civile del codice civile francese 1804 stabilì il Tomalis il principio che Domenico ha citato l'imperio al sovrano la proprietà al cittadino quindi che cosa hanno fatto i borghesi perché la rivoluzione francese sapete fu una rivoluzione borghese non fu una rivoluzione proletaria quindi i borghesi che si erano lasciando da parte tutti i poveri che rimanevano poveri i borghesi volevano la loro revanche sui feduatari che avevano grandi terreni e quindi l'importanza di rendere vendibili i terreni e di ottenere e qui si compie veramente per la prima volta uno strappo enorme nella concezione giuridica perché il territorio è strappato sottratto alla sovranità di chi ha i poteri sovrani e viene dato al privato per cui oggi nella nostra mente è rimasta ancora una cosa dei primi anni del 1804 per cui la gente ritiene ancora che la proprietà privata sia una proprietà comune di tutti sia una proprietà originaria che spetta al privato che non c'entra niente che il pubblico pone solo dei limiti alla proprietà privata cose un po' strane ma la costituzione repubblicana ha ricomposto le cose e qui è il punto centrale ma accorgete che pian piano andiamo alla fine ma ci tengo che questi concetti siano ben chiari nella vostra mente la costituzione cosa dice dice che la proprietà articolo 42 la proprietà è pubblica e privata che significa pubblica e privata si è discusso molto pubblica dice Massimo Severo Giannini che avrete capito che io ho stimato molto purtroppo da molti anni non c'è più comunque nella mia gioventù l'ho stimato molto Massimo Severo Giannini dice guardate pubblico siccome è un genere diverso da privato sta a significare proprio al primo a linea dell'articolo 42 sta a significare la proprietà collettiva demaniale cioè i demani quindi la proprietà o appartiene al popolo dice la costituzione o appartiene a privati però subito precisa nello stesso rigo precisa i beni economici cioè quelli commerciabili i beni economici appartengono allo Stato a enti o a privati allora si vuol dire che i primi sono beni incommerciabili la proprietà pubblica è incommerciabile il demanio che appartiene solo al popolo poi si precisa ma guardate che ci sono beni commerciabili che possono appartenere anche alla pubblica amministrazione oltre che ai privati e questi sono in commercio e pone i limiti alla proprietà privata secondo com dell'articolo 42 esce fuori il discorso veramente pregnante e importante perché bisogna premettere una cosa la costituzione riconosce come diritto inviolabile dell'uomo il diritto a quei beni che soddisfano bisogni personali un vestito non è che produce utilità solo uno lo può vestire se lo vesto io in due non possiamo vestire lo stesso vestito insomma quindi il vestito le scarpe il cibo diciamo ancora un'utilitaria la prima abitazione tutti questi sono diritti inviolabili poi ci sono dei beni che producono utilità eccedenti i bisogni individuali o familiari prendete la grande industria prendete la fiat già Mussolini c'è un discorso che ho ritrovato Mussolini parlava della fiat come di un bene della nazione abbiamo detto insomma aveva capito parecchie cose poi ha fatto quell'errore della guerra e poi soprattutto togliere la libertà insomma è una cosa che non possiamo accettare però insomma diamo a Cesare quel che è di Cesare lui aveva riconosciuto che la fiat apparteneva al popolo italiano non alla famiglia Agnelli o perlomeno non solo alla famiglia Agnelli anche se poi lui favoriva vabbè lasciamo stare questi discorsi non servono non servono ai nostri ai nostri fini i beni che producono utilità che eccedono gli stretti bisogni personali o familiari sono riconosciuti e garantiti dalla legge allo scopo di assicurarne la funzione sociale devono essere utili a tutti non può dire come si chiama quello che ha portato della fiat Marchionne non può dire Marchionne io sono il proprietario della fiat io la levo la fiat la porto in America perché Obama mi dà il prestito poi anzi la porto in Inghilterra in Olanda e pago le tassi in Inghilterra queste sono pazzie e noi e noi che non diciamo niente noi zitti tutti senza di niente rileggiamo un attimo quest'articolo la legge cito a memoria la proprietà privata quella di grandi dimensioni è riconosciuta e garantita dalla legge parentesi che ne determina i modi di acquisti di godimento e limiti allo scopo cioè la riconosce e garantisce a uno scopo quella di assicurarne la funzione sociale e l'accessibilità a tutti dell'utilità sociale scusatemi se io ho un'impresa come la Fiat e la porto fuori carissimo Salvatore l'ho preso un po' per le lunghe anche perché venivano ma sto concludendo ma sto concludendo e la porto fuori delocalizzo scusatemi dov'è che perseguo la funzione sociale io licenzo gli operai io mando alla miseria a un sacco di persone io faccio un'attività antisociale altro che funzione sociale e poi ci sono beni che sono o inutilizzati o abbandonati che non esplicano un'attività sociale questi beni che fine fanno è semplice secondo la Costituzione tornano lì da dove erano venuti vi ricordate quando vi ho parlato della divisa di segnazio agrorum da dove venivano quei beni venivano dal popolo nella Costituzione da dove vengono i beni vengono dal popolo se il privato li abbandona tornano nella proprietà collettiva del popolo questo è un grandissimo risultato a cui bisogna tenere presente perché oggi non ci possiamo permettere che vastissime aree del nostro territorio con quello che serve a noi siano occupati da industrie abbandonate raffinerie che non servono più capannoni che Tremonti ha riempito tutto di capannoni tutta la pianura padana è piena di capannoni che occupano territorio e quindi questo non può andare in base alla Costituzione penso questa volta di avervelo dimostrato e vado alla conclusione in base alla Costituzione il territorio in quella definizione che ho cercato di darvi nella sua complessità appartiene al popolo e la proprietà privata dipende da una cessione ricordatevi una cessione di parte del territorio che il popolo sovrano fa del suo territorio e lo dà a singoli ma non lo dà indefinitamente lo dà con una condizione allo scopo di assicurarne la funzione sociale ed è venuto il momento di farla valere la funzione sociale perché questa è la rivoluzione promessa di cui parla Calamandrei Calamandrei dice le forze di destra avendo evitato una rivoluzione immediata non si opposero alle forze di sinistra a concedere una rivoluzione promessa quindi io sono stasera venuto da voi proprio per per dire che è il momento della riscossa è il momento in cui noi facciamo valere la Costituzione e la facciamo valere non nominalmente ma precisamente punto per punto facciamo valere l'articolo 42 primo e secondo comma della Costituzione e i beni che sono inutilizzati perché costano troppo e nessuno le vende i beni che occupano indebitamente devono essere ritornare tutti nel patrimonio collettivo e devono essere gestiti nell'interesse collettivo un'ultima cosa mi permetterete di dire è che anche nel mio testo non tutti i mali vengono per nuocere sicuramente i beni che noi dobbiamo riconquistare i beni che sono stati privatizzati che noi dobbiamo riprenderci i beni che sono stati abbandonati che noi dobbiamo riprenderci questi beni vanno utilizzati in modo diverso da quello in cui sono stati utilizzati fino ad oggi il consumismo ha fatto danni enormi a noi secondo me ci sono due cose importanti che sono le caratteristiche proprie del nostro territorio e del nostro modo di essere intimo di ciascuno di noi che si riassume nel culto della bellezza in realtà abbiamo il paesaggio più bello del mondo quindi noi dobbiamo fare in modo che tutto sia rimesso in pristino con una grande opera pubblica di ricostituzione dell'ambientale e dell'equilibrio geologico d'Italia non mi interessa questo sistema di sbloccare l'Italia dando i soldi direttamente alle imprese o dando i soldi alle banche quelli se li mettono in tasca bisogna dare i soldi ai lavoratori fare il fiscal compact vuole che noi spendiamo 50 miliardi all'anno per 20 anni facciamo un'opera pubblica come si deve di ristabilimento del territorio perché abbiamo diritto ad avere un territorio non devastato e facciamo in modo che questi 50 miliardi all'anno vengano redistribuiti perché è la redistribuzione della ricchezza che risolve il problema finanziario non è il finanziamento delle grandi imprese o il finanziamento delle banche che risolve agisce come volano ha detto Keynes all'indomani della crisi della crisi del 29 e in questo punto Keynes è ritenuto ancora valido mentre lo si critica per la teoria del deficit spending sistematico lo si ritiene molto valido per la teoria del pump priming che è questa cioè quella di redistribuire la ricchezza come vuole la nostra costituzione a una moltitudine di persone che vanno ai negozi i negozi vanno alle imprese e quindi si rimette in moto il volano il volano dell'economia e concludo effettivamente a questo punto allora la prospettiva qual è? riconquistiamo il nostro territorio rimettiamolo in bellezza e utilizziamo anche il genio italico che è un genio molto creativo che si esplica soprattutto nelle tradizioni dell'agricoltura del turismo e dell'artigianato secondo me dobbiamo cambiare l'indirizzo la industrializzazione di posti bellissimi è stato è stato un grave errore dobbiamo avere la nostra acciaieria dobbiamo avere una dobbiamo avere la nostra fabbrica di automobili una due ma dobbiamo soprattutto coltivare la terra perché noi abbiamo delle tradizioni che sono un patrimonio inestimabile sotto il profilo culturale quindi l'ultima mia parola è teniamo presente che il territorio appartiene a tutti e che noi abbiamo un imperativo categorico torniamo alla nostra madre terra grazie grazie grazie